Sciapero venerdì 19 per l'intera giornata con due ore di presidio dalle 10 alle 12 davanti allo stabilimento di Via Industria a cui tutti sono invitati a prendere parte. L'azienda è l'Ariello di Morbegno, 61 dipendenti dei quali 51 operai e 10 impiegati per cui tra 90 giorni dovrebbero scattare i licenziamenti in seguito alla decisione dell'Ariello SPA che dal 2020 appartiene alla multinazionale Career Corporation di chiudere lo stabilimento aperto 32 anni fa grazie ai fondi della legge Valtellina. I periodi d'oro, quando la ditta sul finire degli anni 90 contava più di 500 dipendenti, sono lontani. Lo stesso, l'annunciata cessazione parziale di gran parte della produzione entro l'estate e l'esternalizzazione della parte relativa ai ricambi con conseguente chiusura dello stabilimento rappresenta un duro colpo sia per le famiglie interessate che per il tessuto economico della provincia. In più, al momento, nessuno sa prevedere quali sviluppi avrà la vicenda. Non lo sappiamo se ci sono margini di manovra. Abbiamo contatti stretti con i sindacati e stiamo cercando di aprire un tavolo di confronto con la proprietà per capire innanzitutto quali sono gli scenari che vengono prospettandosi. Il presidente dell'amministrazione provinciale è anche primo cittadino di Talamona, territorio su cui si espande senza soluzione di continuità con Morbegno l'area industriale della Bassavalle. Ho fatto anche il presidente del consorzio per l'area industriale e è diventata una necessità quella di interagire con le aziende. Il pubblico e il privato devono lavorare insieme perché attraverso questa sinergia si creano le opportunità per la crescita e il consolidamento delle attività sul nostro territorio. Menegola lascia intendere che puntare sull'area industriale significa anche adoperarsi per scongiurare la chiusura dell'ariello. Al di là degli slogan di star vicini ai lavoratori, noi siamo fermamente convinti che il polo produttivo del mandamento di Morbegno, anche attraverso questa azienda, debba trovare comunque anche uno slancio nuovo e una ricollocazione importante nello scenario lombardo nazionale e internazionale.